eccoci qui dopo una piccola pausa estiva con un nuovo progetto intanto bentornati sul mio canale se siete nuovi benvenuti nel tutorial di oggi andiamo a realizzare questa bellissima stola sciarpa estiva dico estiva perché io l'ho realizzata in cotone e sfruttata tantissimo al mare la sera per le lunghe passeggiate sopra un top però è ideale anche per le mezze stagioni sopra un maglione o una giacca di jeans allora può essere portata in diversi modi come avete visto nell'anteprima chiaramente possiamo farla anche con un filato in lana per l'inverno da poter portare sopra un cappotto o un piumino il progetto è molto semplice alla fine andiamo a rifinire la stola con delle frange che quest'anno sono molto di moda che voi potete fare della lunghezza che più vi piacciono allora la mia sciarpa ha una lunghezza che qua non ci sta purtroppo tutta una lunghezza di un metro e 30 e un'altezza di 35 centimetri per farvi vedere il progetto io oggi farò un campioncino con voi e vi spiegherò tutti i passaggi intanto andiamo a vedere cosa ci occorre per realizzarla abbiamo bisogno del nostro filato come ho detto all'inizio io ho usato un cento per cento cotone il mio filato richiedeva l'uncinetto del numero 3 io ho usato l'uncinetto del 4 e mezzo perché volevo che la mia stola fosse molto morbida poi abbiamo bisogno delle forbici di un ago da lana e di un metro allora come ho detto prima la mia stola ha una lunghezza di un metro e trenta col mio filato e col mio uncinetto per arrivare a queste misure ho caricato 200 catenelle il nostro punto ha bisogno di un multiplo di due io vi farò vedere il campioncino e vado a caricare 20 catenelle andiamo a fare un capietto iniziale e fare le nostre catenelle nel mio caso sono 20 voi caricherete le catenelle di cui avete bisogno per arrivare alla vostra lunghezza ricordandovi che le catenelle devono essere un multiplo di due allora quando avrete caricato le vostre catenelle prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo tre maglie di base una due tre entriamo nella quarta e andiamo a fare un punto alto prendiamo il filo lo portiamo di qua abbiamo tre asole passiamo prima attraverso le prime due restano due asole poi attraverso le ultime due e abbiamo fatto così il nostro punto alto una catenella di separazione prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo un punto di base entriamo in quello successivo e facciamo un punto alto una catenella saltiamo un punto di base entriamo in quello dopo e facciamo un punto alto di nuovo catenella di separazione filo sull'uncinetto saltiamo un punto di base entriamo in quello dopo e facciamo un punto alto e questo lavoro lo ripeterete fino a raggiungere la fine della vostra riga arrivati quasi al termine ci rimangono due maglie andiamo a fare la catenella saltiamo il penultimo punto entriamo nell'ultimo e anche qui andiamo a fare un punto alto e così abbiamo terminato la nostra prima riga ci alziamo con 3 catenelle una due tre e voltiamo il nostro lavoro in questo giro andremo a fare un punto alto in ogni spazio che abbiamo creato nel giro sottostante prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nel primo spazio e facciamo un punto alto sempre la catenella di separazione filo sull'uncinetto nel prossimo spazio entriamo punto alto catenella di separazione come vedete veramente il lavoro è molto semplice e procede anche molto velocemente la catenella nel prossimo spazio il prossimo punto alto catenella nel prossimo spazio punto alto la catenella nel prossimo spazio il prossimo punto alto catenella nello spazio il punto alto la catenella nello spazio il punto alto e quando avrete lavorato nell'ultimo spazio facciamo ancora l'ultima catenella e chiudiamo la riga sempre qua avevamo le tre catenelle una due tre entriamo nella terza catenella e andiamo a fare un punto alto e così abbiamo terminato anche la nostra seconda riga 3 catenelle e voltiamo il lavoro e qua iniziamo a fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto nel giro sotto filo sull'uncinetto entriamo nel primo spazio e facciamo il punto alto la catenella di separazione nel prossimo spazio punto alto catenella catenella prossimo spazio il prossimo punto alto catenella prossimo spazio punto alto la catenella magma so cosa che si può lavorare al punto alto con la catenella ho fatto la catenella questo lavoro andrà fatto per tutta la riga e quando sarete arrivati poi a lavorare l'ultimo spazio facciamo la catenella e l'ultimo punto lo facciamo sulla terza catenelle delle 3 catenelle del giro sottostante 1 2 3 entriamo nella terza catenella e andiamo a fare il nostro punto alto che abbiamo terminato anche questa riga e poi riprendete a fare le vostre 3 catenelle voltate il lavoro iniziate da capo nello spazio il punto alto la catenella di separazione saltate nel prossimo spazio il prossimo punto alto e così lavorate riga dopo riga fino a raggiungere l'altezza che voi desiderate come ho detto all'inizio l'altezza del mio chalet è di 35 centimetri adesso farete queste righe di cui avete bisogno e poi ci rivediamo allora quando voi poi avete raggiunto l'altezza andiamo a lavorare un bordo sui tre lati della nostra sciarpa sul primo lato corto sul primo lato lungo e sul secondo lato corto il terzo lato non lo lavoreremo perché qui andremo poi ad applicare le nostre frange il bordo è molto semplice fatto solo di punti bassi allora quando qua terminate l'ultima riga abbiamo qua subito il primo spazio entriamo e andiamo a fare un punto basso il secondo punto basso lo faremo in questa maglia che divide uno spazio dall'altro spazio entriamo qua in questa maglia e facciamo un punto basso nel prossimo spazio un punto basso poi di nuovo in questa maglia che divide i due spazi entriamo e facciamo anche qui un punto basso nel prossimo spazio un punto basso e sopra la maglia che divide i due spazi anche qui un punto basso questo lavoro lo farete fino ad arrivare al primo angolo e negli angoli andiamo a lavorare sempre tre punti bassi allora uno due e tre tutti tre punti nello stesso spazio per avere un lavoro bello pulito poi saltiamo di nuovo sopra questo punto e andiamo a fare un punto basso poi di nuovo nello spazio un punto basso sopra la maglia un punto basso e andrete a ripetere questo lavoro fino al prossimo angolo qua di nuovo tre punti bassi e poi farete l'altro lato corto e poi ci rivediamo allora quando avrete lavorato sui vostri tre lati 1 2 3 andiamo nell'ultimo spazio qui entriamo qui andiamo a fare un punto basso e poi entriamo nel prossimo punto vicino e andiamo a fare un punto bassissimo una catenella tagliamo il filo e sfiliamo chiaramente tutti i nostri fili li nasconderemo poi con l'ago all'interno delle maglie adesso abbiamo lavorato i nostri tre lati qua abbiamo il lato dove non abbiamo fatto i punti bassi lo giriamo e qui andremo a mettere le nostre frange allora applicare le frange è un lavoro molto semplice e piuttosto chiede richiede un po di pazienza un po di tempo allora le mie frange hanno una lunghezza di 25 centimetri voi potete farlo farle più lunghe o più corte come volete voi potete anche fare le frange a modo di zigo zago allora siccome che poi le frange il filo che tagliamo viene piegato in due nel mio caso 25 centimetri di frangia io dovrò andare a tagliare dei fili per una lunghezza di 50 centimetri adesso andiamo a tagliare un po di fili e poi ci rivediamo allora qua adesso abbiamo la nostra sciarpa qua abbiamo il lato dove non abbiamo fatto i punti bassi prendiamo uno dei nostri fili andiamo a piegarlo a metà qua abbiamo l'inizio e la fine prendiamo questo lato sopra poi infiliamo questo lato in uno degli spazi in questo modo lasciamo un po di spazio qua facciamo passare i due fili e poi tiriamo e la prima frangia l'abbiamo messa prendiamo poi un secondo filo andiamo sempre a a piegarlo a metà andiamo nel prossimo spazio entriamo facciamo passare i due fili all'interno questo spazio e poi tiriamo e così andrete ad applicare in ogni spazio che avete disponibile una frangia volendo potete prendere come ho detto anche il filo doppio in modo che le frange siano un po più spesse questo sta nel vostro gusto e quando poi avete applicato tutte le vostre frange ecco pronto il nostro bellissimo challe la nostra bellissima stola spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao